Kiros, la grande moda a Fossalta di Portoguaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portoguaro. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portoguaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è una staffa di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto, a Villotte di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portoguaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione ai confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in Via Vivaldi numero 3 a Portoguaro, telefono 0421 273 258. In questo numero, sogno Portoguaro, i Granata vincono a Villorba e sono secondi in classifica. Stefano Della Bianca analizza il momento della Fossaltese. Endusiasmo a Caorle, i rosso-blu sono in vetta al campionato di prima categoria. Marcon senza limiti, i veneziani affondano la Iulia Sagittaria e vedono il vertice, intervista con i due tecnici. Il Sanstino è decollato, dopo il difficile avvio di stagioni in seconda categoria, i Liventini adesso guardano i play-off. L'Aurora San Nicolò prepara il ritorno in terza categoria. In Serie D femminile Portoguaro a mille, ancora una vittoria per le Granata con il Longarone. Ottava giornata, il campionato di Serie D appare sempre più indirizzato verso una sfida a due. Triestina e Mester procedono con passo spedito senza tradire alcuna incertezza. Dietro invece i passi falsi sono all'ordine del giorno. Il Campodaro secondo noi è andato oltre il pareggio con la Bigontina, mentre la Virtus Peccom è caduta con il Cordenons di Massimo Mian. Al terzo, risultato utile consecutivo. Tre punti che hanno portato in Granata Pordenonesi quasi completamente fuori dalle acque torbide della bassa classifica, lasciando ormai alle spalle tutte quelle incertezze che avevano caratterizzato l'inizio della stagione. Il Tamai è impattato in quel di Noale, un punto che fa comunque classifica e che permette alle furie rosse di restare a stretto contatto con la zona playoff. Anche il sedico in eccellenza continua a viaggiare a vele spiegate e il successo sul campo dell'Union QDP ha confermato lo straordinario momento dei bellunesi che danno l'impressione di voler arrivare sino alla fine. In classifica risalgono le trevigiane, Liventina, Lia, Piave e Treviso dopo un avvio di stagione con qualche difficoltà hanno conquistato adesso la zona playoff, mostrando il loro vero volto di squadre che ambiscono alla promozione diretta. In difficoltà del Santonà, atteso ad un ben altro avvio di torneo, l'undici di mister Stefano Andretta ha lasciato strada al Porto Mansuet, restando nel limbo di un centro classifica che mal si addice davanti alle grandi aspettative della vigilia. Non brillano a meno il martellago, sconvitto dall'Istrana e adesso invischiato nelle parti basse della classifica. A Portoguaro invece si sogna. Il colpaggio realizzato in casa della capolista Union Vipo ha regalato ancora più entusiasmo e consapevolezza delle proprie possibilità ad una squadra costruita nel corso dell'estate con un certo raziocinio incuranti delle contestazioni di una parte del pubblico che ne aveva sentenziato l'indebolimento. Adesso è giusto guardare avanti senza mettersi più limiti, anche se in Riva Lemene si resta coi piedi per terra. È una settimana veramente di quelle importanti, di quelle dove l'entusiasmo è a mille, grande vittoria sul campo della capolista, squadra che sta volando. Sì dai, diciamo che stiamo facendo bene, ecco per cui faccio i complimenti ai ragazzi. Però è un momento che bisogna anche tenere i piedi per terra, nel senso che abbiamo già una partita importantissima contro una spinea che io conosco molto bene, che so che è formata da giocatori importanti, però insomma in questo momento penso che dobbiamo solo pensare a noi, allenarci bene e aspettare la partita con la migliore mentalità di essere una squadra aggressiva, di una squadra che sia concentrata per quello che può essere un obiettivo importante per qui a Portoguaro. Per cui valuteremo la situazione in settimana qua e affronteremo lo spinea con le dovute energie. In estate c'erano state tante polemiche, tante critiche magari da parte di qualcuno all'esterno verso la squadra che si diceva, addirittura qualcuno diceva che era stata indebolita. Davanti a questi risultati cosa dire? Ma siamo sempre là, la teoria è una cosa, la pratica è un'altra, per cui penso che abbiamo un gruppo valido, un gruppo di giocatori che hanno formato un buon spogliatoio, per cui lascio che ognuno abbia la sua idea, da parte nostra deve essere il campo che dà la giusta impronta e la giusta quadratura a questa squadra, noi ce la metteremo tutta anche per attirare di più allo stadio quelle persone che magari non credevano in noi, ma sono convinto che a volte anche al di là del risultato, questa è una squadra che sta dimostrando un grande attaccamento ai colori, per cui al di là del risultato che ci fa piacere a tutti, già questo in partenza è un lato positivo del gruppo. Con lo spinea sarà una partita ovviamente come già anticipato difficile, praticamente come pensi di affrontarla? Ma noi siamo un gruppo che difficilmente ci basiamo su quello che può trasmettere il gruppo avversario, la squadra avversaria, cercheremo di andare in campo per dare la nostra fisionomia, sicuramente magari dopo un tot di tempo la situazione è in mano allo spinea, magari cercheremo di prendere le dovute quadrature, però andremo in campo per cercare di vincere la partita. So che è una squadra che è un gruppo di giocatori importanti, come l'ho detto prima, però l'ho detto ancora una volta, lo dico ancora una volta, ecco ci valutiamo noi e dopo vedremo insomma alla fine il risultato di domenica. Fortunatamente è una miglior formazione, a parte il mister che non sarà in panchina. Ma guarda, questo è un grossissimo dispiacere, però mi dispiace ecco perché l'esposizione è dovuto a un fatto proprio minimo, ecco, anche perché erano diversi anni che non venivo allontanato dalla panchina. Non me l'aspettavo, ecco, e io lavoro, sono uno che lavora tutta la settimana proprio per attendere la domenica e per essere lì su quella panchina, però dico solo che al mio posto c'è Massimo Marzola, ecco, perché è un ragazzo che ho molta stima e fiducia, ecco, per cui cercheremo di consigliarsi uno all'altro, ecco, magari verso la fine del primo tempo, però insomma, sono tranquillo con Massimo Marzola. Per le altre due rappresentanti del Veneto orientale, la settimana è stata piuttosto amara, piena di interrogativi sui perché dei rispettivi scivoloni che in qualche modo ne hanno tarpato le ali. È stata brutta la sconfitta della salute sul campo dell'Ovis presiano, i diventini che hanno come obiettivo primario la salvezza, ad ogni quel modo restano sempre a stretto contatto con la zona playoff. La Fossaltese invece si è inchinata allo Spinea dopo essere passata addirittura in vantaggio. Ma sì, abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, siamo passati in vantaggio, poi mancava un minuto a fine primo tempo, abbiamo fatto una piccola leggerezza e abbiamo preso il primo gol. Poi rientrati dagli spugliatoi diciamo che non siamo rientrati come il primo tempo, abbiamo subito il secondo gol e poi il terzo su rigore e quindi abbiamo perso 3-1 insomma. Quindi una settimana a riflettere appunto sugli errori commessi possiamo anche dire che insomma sono peccati di gioventù. Ma bisogna crescere in fretta, bisogna guardare gli errori con positività nel senso che bisogna cercare di non ripeterli e da domenica prossima riprendere il cammino di far punti insomma. Fondamentale perché abbiamo visto insomma che è un campionato molto interessante dove non c'è nessuno che si ferma praticamente. Sì sì, è un campionato comunque livellato, non c'è nessuno che fa da squadra materasso perché abbiamo visto comunque il Plavis che domenica ha vinto e comunque le altre squadre sono tutte che vincono o perdono. Sì, non c'è nessuna squadra materasso, il campionato secondo me è livellato quindi ogni passo falso chiaramente si è risucchiato, ogni vittoria invece magari li tiri un po' fuori. In prima categoria il Caorle ha conquistato la vetta vincendo da autorità con l'ormai ex capolista Ballos Caldenigo, Litoranei a Barcetto con la Miranese in attesa dello scontro verità con il 90. Un test contro una delle dirette concorrenti al salto di categoria dal quale si capiranno le reali potenzialità dell'undici rosso-blu. Primi in classifica, era già successo lo scorso anno, poi sappiamo come è andata a finire e quest'anno le premesse probabilmente sono diverse perché la squadra è diversa. E' normale che già all'inizio dell'anno siamo partiti con creare un gruppo che dia quelle garanzie per arrivare fino in fondo, poi se il campionato è ancora lungo e può succedere anche di tutto, speriamo di no. Domenica abbiamo dimostrato di essere una squadra che daremo il figlio e torci da tutti e lotteremo fino in fondo, però ripeto, certo che c'è felicità, c'è tranquillità dell'ambiente. Lavoriamo appunto bene anche nel corso d'allenamento e secondo me è importante domenica. Domenica è un incontro dove incontriamo sicuramente una squadra che è forte in tutti i reparti e lì bisogna dimostrare se siamo veramente una squadra che possiamo puntare fino in fondo. Tante più l'impressione di squadra che è destinata a durare fino in fondo. Beh, quest'anno almeno abbiamo un gruppo di 20 giocatori disponibili sempre. Ho possibilità di fare delle scelte, dunque ben venga. L'anno scorso eravamo 14 giocatori con dei ragazzi e con qualche infortuna eravamo sempre in difficoltà, però visto che l'anno scorso con le nostre difficoltà si è arrivati fino in fondo, quest'anno con un gruppo così importante e di qualità mi auguro di fare ancora meglio. Con il 90 che partita ti aspetti? Possere di tutto, possere di tutto perché sono partite dove c'è dell'entusiasmo da parte di loro, c'è entusiasmo da parte di nostra, c'è sempre del campanismo perché è quasi un derby, ci sono degli amici tra noi e loro che si conoscono e si frequentano e sono amico del mister, l'ambiente lo conosco, cioè può succedere di tutto, è chiaro che l'importante è che esca una bella partita e poi il risultato speriamo a favore nostro alla fine, però speriamo che non sia da niente, che esca una bella partita, che soddisfi un po' il pubblico e poi ripeto andiamo avanti però non si estraeva. Un campionato, quello di prima categoria che si sta rivelando di grande interesse, soprattutto per quel che riguarda il vertice, con sei squadre racchiuse in due punti, tra queste c'è anche il Marcon, ritornato al successo sul campo di Concordia con una Giulia Sagittaria che non riesce più a trovare la via del gol. Mister, se stati cinici è il punto giusto, avete atteso il momento propizio e poi avete affondato il colpo? Sì, proprio l'analisi giusta della partita secondo me, la squadra si è comportata bene, abbiamo fatto una buona partita contro una buonissima squadra perché sapevamo che venire qua da loro e fare la partita a noi non era impensabile. L'atteggiamento che chiedevo dopo la sconfitta di domenica, che ho perso 4-0 in casa, era quello proprio di vedere se questa squadra aveva carattere, c'era con la voglia, con la testa e da questo punto di vista sono soddisfattissimo. La squadra ha risposto bene sul campo, colpo sul colpo degli avversari, che è reputo una signora squadra per la categoria, hanno anche un allenatore molto bravo come Fabio, per cui lo stimolo e lo rispetto e si è visto in campo comunque il valore degli avversari. Proprio per questo l'atteggiamento e il risultato vale tantissimo anche per il morale della squadra, per la consapevolezza perché questa squadra secondo me può dare ancora tanto di più, tanto di più, per cui contento, contento, molto contento. Può dare tanto di più per arrivare dove? Non ci poniamo limiti, nel senso che ci sono tante squadre attrezzate su questo campionato per poter vincere questo girone. Parliamo del 90, parliamo della Fossa Alta, stesso Giulia, Milanese. Non ci mettiamo su questo gruppetto, ce la giochiamo, poi sarà il campo a parlare, se loro sono più bravi si stinge la mano e si accetta il risultato del campo. Secondo me oggi noi siamo proprio stati bravi da questo punto di vista qua, li abbiamo aspettati, abbiamo sofferto poco, ma ci sta anche soffrire qui a Concordia contro questa squadra, però siamo sempre rimasti compatti, ma anche i giocatori che sono entrati sono entrati bene, per cui ho avuto una bella risposta da parte della squadra. Diciamo che il primo tempo penso meritavamo qualcosina in più sotto l'aspetto del gol e anche per il gioco proposto e per le occasioni avute, purtroppo è un periodo che va così, creiamo tantissimo e non riusciamo a buttarla dentro. Questo è il calcio, va accettato, dispiace, dispiace perché è una partita che sicuramente non meritavamo di perdere, anzi secondo me ci poteva stare il pareggio, ma ai punti meritavamo sicuramente qualcosa più noi, però bisogna far gol, questo è il punto. Questo è il punto, quale strategia bisognerà trovare per invertire questa tendenza? È una strategia, non c'è una ricetta giusta, bisogna continuare a lavorare, i ragazzi si impegnano, lavorano bene durante la settimana, cercano di mettercela tutta, deve solo girare questo periodo, questo trend un po' storto, lavorare, 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 l'unica ricetta che io conosco per uscire da questo momentaccio. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi, Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio, Kiros in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo, Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Dotaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Dotaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è una staffa di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto, a Villotte di Chionzin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione ai confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in Via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 273258. In seconda categoria, il Bibione non conosce ostacoli. 5 a 1 anche allo Jesolo, che è valso il primato solitario del girone. Tiene il passo solamente il paramaggiore, passato a sindacale. I Bleurana domenica saranno attesi da una sfida insidiosa con il Sanstino, ritornato a marciare con una certa continuità dopo un avvio di stagione zoppicante. Come tutti gli anni purtroppo partiamo sempre con la gamba legata al palo e quindi non riusciamo sempre ad ottenere quello che ci prefissiamo. La partenza è stata chitubante, ma effettivamente la squadra ha numeri e qualità per poter sopperire. I valori col tempo sono usciti, i ragazzi stanno facendo bene, ci auguriamo di far bene anche nel proseguo. Le squadre che abbiamo incontrato anche ultimamente non sono proprio squadre di prima fascia. Domenica con il Pramaggiore vedremo se effettivamente meritiamo quel posto in classifica al quale ambiamo, perché il Pramaggiore lo ritengo una squadra attrezzata per i nomi che ha, per le persone che ha, per la qualità tecnica e tattica dei suoi giocatori. Siete a ridosso dei play-off, il sogno ovviamente è di arrivarci. Mi auguro, dopo cinque anni che ci priviamo, che cerchiamo di imbastire la squadra per arrivare a quell'obiettivo, mi auguro anche per i ragazzi, se lo meriterebbero, vorrebbero arrivarci. Il solito discorso, non vorrei parlare degli infortuni, delle disgrazie, ma anche quest'anno noi abbiamo avuto delle defezioni importanti, anche una domenica. si è fatto male un ragazzo, domenica scorsa un altro ragazzo ancora, e quindi a volte certi castelli che noi tentiamo di impostare praticamente ci cadono tra le mani, quindi non abbiamo proprio questa fortuna. Però i play-off diciamo che sono alla nostra portata e vorremmo entrarci proprio nei play-off, giocarcela fino alla fine. Diciamo che il Bibione è un po' che ci prova e probabilmente quest'anno ci riuscirà a numeri e qualità per farcela. a tre porti come outsider. C'è la sorpresa del Ponte Crepaldo, una squadra che ha investito parecchio in giocatori e in tecnici, quindi anche loro sicuramente diranno la sua. Nella seconda fascia ci saremo noi il Pramaggiore, il Burano, il Sandonà, che io ritengo una squadra molto valida perché ha dei giovani interessanti e anche loro sicuramente come Blasone non vorranno rimanere in seconda categoria ancora per tanto tempo e quindi di sicuro anche il Sandonà dirà la sua fino alla fine. Fermo restando il fatto che comunque secondo me qualcosa in più hanno le prime tre squadre che ho detto, quindi Treporti, Bibione e Ponte Crepaldo. Sastino che manca in effetti da diversi anni dal calcio che conta, come sta rispondendo la città a questo momento positivo della squadra? Allora, per fare la categoria superiore sicuramente ci vorrebbero delle risorse economiche che in questo momento la società non ha. Per quanto riguarda il Paese, come risponde il Paese? Io vedo che negli ultimi cinque anni in cui ricopro questo ruolo la presenza in tribuna e nell'assetto societario delle persone è sempre quella praticamente, 30 o 40 persone. Cioè è normale che qualcuno mi fermi per strada e mi dica ma Sastino meriterebbe per lo stadio, per il Blasone, qualcosa di più della seconda categoria. Però effettivamente di concreto non c'è niente, gli sponsor negli anni si sono tolti perché logicamente anche le aziende come tutte in Italia, le cose non vanno proprio così bene e quindi alla fine si ritirano, si tolgono oppure tolgono delle risorse. Dico la verità, i ragazzi lo vorrebbero, la società penso che comunque non sarebbe proprio una grazia a salire di categorie in questo momento perché penso che potrebbe fare la fine del Crotone in Serie A, nel senso che si sono tolti forse la soddisfazione di fare la Serie A, però alla fine se non hai le risorse economiche per poter sopperire alla categoria, in questo momento Sastino non ci sono risorse per poterlo fare. In terza categoria Giuseca si è sconfitta tra le mulamiche da un'anonese in gran spolvero che si candida per un posto alla luce del sole, una sconfitta quella dei portoguaresi che è valsa la gancio in vetta da parte della San Giorgese uscita con i tre punti con il Lido Jesolo, giovane realtà del calcio del litorale, mentre il cessalto si è confermata squadra di vertice travolgendo il Torre di Mosto. Una terza categoria che ben presto potrebbe rivederne calcare i campi, l'Aurora San Nicolò, la storica realtà oratoriana portoguarese che da diversi anni si è trasformata in società pura ed è proprio qui, ricordando il recentemente scomparso presidente Giuseppe Boscarion che continua il nostro viaggio tra i settori giovanili del Veneto orientale. Un settore giovanile che praticamente continua a svolgere una funzione sociale per i ragazzini di Portoguaro. Il nostro scopo è stato sempre quello, noi siamo nati come oratorio e vogliamo continuare a avere questo spirito oratoriale, noi vogliamo educare i bambini allo sport e al calcio, devono giocare a calcio con i nostri allenatori, magari non sono tutti allenatori, però sono allenatori bravi che sanno comunicare ai bambini, insegnare l'educazione e questo era come il vecchio oratorio che c'era al Pio X. La cosa importante è che da quest'anno siamo riusciti veramente a ripartire bene dopo gli anni che eravamo lì dietro la chiesa, che la struttura era un po' quello che era, con il nuovo impianto ci ha fatto fare un piccolo salto e siamo sulla buona strada per ritornare, non dico a quelli che eravamo una volta, ma poter avere un peso nel territorio, questo sarebbe ancora il nostro scopo e poi il sogno di Beppi era quello di continuare questo lavoro che noi lo stiamo facendo, collaborazione degli altri dirigenti, collaborazione dei genitori, collaborazione di Vittorio Battiston, della Presidente che ha voluto continuare questo messaggio che ci ha dato Beppi. Mio marito appunto ha iniziato questa attività naturalmente e quindi io intendo appunto continuare perché lui intendeva appunto andare avanti su questo settore, quindi guardare appunto i bambini piccoli, farli giocare, quindi in modo che abbiano in questo gioco, che diventi disciplina, gioco naturalmente, quindi continuare in questo percorso in pratica diciamo. Con Beppi si era parlato in estate anche di uno possibile ritorno della terza categoria? Sì, ci sono stati dei discorsi perché un'altra cosa che Beppi voleva è riportare l'Aurora in terza categoria con la prima squadra, però tutto sta, pur avendo trovato delle persone che possono e vogliono appoggiare questo progetto sta al fatto che dobbiamo finire e mettere tutto a norma l'impianto, perché in questo momento la strada non c'è, so che l'amministrazione comunale sta cercando delle soluzioni, però finché non avremo tutto l'impianto a norma non potremo avere pubblico e finché non possiamo avere pubblico non possiamo avere una terza categoria. Appena tutte queste cose qua saranno risolte, visto e considerato che si potrà anche giocare al sabato, credo che sia una delle cose che faremo nel futuro prossimo, quello di riportare l'Aurora in categoria. Sta entrando nel vivo il campionato di Serie D femminile, la seconda giornata ha visto il Portoguaro a segno anche con il Longarone. Alle Granata era stata chiesta anche la prestazione e non hanno deluso. Una partita domenica scorsa che ha segnato la seconda vittoria consecutiva della squadra, si chiedeva la prestazione e non solo il risultato, questa c'è stata? Sì, diciamo che le ragazze hanno risposto in maniera positiva. Una partita con tanta grinta, un buon gioco soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo la partita è stata un po' più giocata a centrocampo e tanta voglia di vincere, di portare a casa un risultato importante per la classifica e anche per il morale delle ragazze che serve sempre perché quando si vince il morale si tira su. La partita è stata combattuta, il Longarone è una bella squadra, fisicamente ben messa in campo, però le ragazze hanno avuto l'unità, la grinta e la voglia di portare a casa questi tre punti che le fanno portare al primo posto, ai primi posti della classifica e fanno ben sperare per il futuro del campionato. Una partita che se vogliamo dire è stata anche salvata da un paio di grandi interventi del portiere Marta Zoia. Sì, la Marta domenica ha fatto la sua prima partita di campionato e sinceramente ha fatto una partita veramente bella, una bella prestazione, sicura di sé, tranquilla, ha dato tranquillità alla squadra e sia nel primo tempo con due belle parate e soprattutto alla fine con un'uscita tempestiva limite dell'aria ha salvato il risultato facendo vincere la squadra del Porto Gruaro, il Maser è una squadra che si è rafforzata, poi ci sono altre un paio di squadre, un paio di auxider come si dice, quindi anche domenica sarà una partita penso tosta contro una bella squadra e speriamo di fare il risultato e una bella prestazione. E a proposito di portieri, Marta Zoia, la protagonista di un paio di interventi salva risultato? Il protagonista è un parolone, diciamo che ho fatto la mia partita, ho cercato di fare il possibile per svolgere il mio dovere, quindi siamo riusciti a fare dei buoni interventi e sono felice di questo ma c'è ancora da crescere e questa è solo la partenza di un lungo percorso diciamo. Beh, quello che hai fatto proprio in chiusura di partita, che poteva anche, che hai evitato il 2-2 del lungarone, in effetti vale anche doppio se vogliamo dire. Diciamo che è stato un intervento decisivo ma d'altronde è anche quello che noi dobbiamo fare, questo è il nostro ruolo e abbiamo determinate responsabilità, abbiamo scelto di prendercele e cerchiamo di portarle a termine. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Dottaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Dottaviaggi vi propone. Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Dottaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è una staffa di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto, a Villotte di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione ai confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in Via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 273258.